Ciao a tutti e bentrovati per una nuova intervista. Questa volta ho avuto il piacere di intervistare Davide Palumbo, biologo specializzato in fauna vertebrata ed uno dei fondatori di Biosfera Itinerari, un tour operator che organizza turismo naturalistico. Poi, che cosa sia effettivamente il turismo naturalistico e come debba essere fatto, ve lo dirà meglio lui durante l'intervista. Penso sia un argomento molto molto attuale, spesso su Facebook si vedono video e foto di viaggi dove la gente ha visto magari animali, in particolari posti esotici, ma non sempre quello che viene chiamato turismo naturalistico lo è davvero. Quindi questa intervista sarà utilissima anche a coloro che vorranno cimentarsi in questo tipo di viaggi per riconoscere quali sono effettivamente dei siti di turismo che hanno rispetto per gli animali e il loro ambiente, per le popolazioni che ci vivono e quali invece nascondono delle trappole per turisti, da cui è bene stare alla larga. Se volete seguire l'operato di Davide e del suo team, trovate appunto in descrizione il sito di Biosfera e la loro pagina Facebook, seguiteli perché fanno delle cose pazzesche, mi raccomando. È un'intervista questa, secondo me, molto interessante, spero vi piacciano le interviste come format, perché ho intenzione di farne tante sul canale, penso che dare la parola ad esperti di settore sia la cosa migliore da fare. Tra l'altro Davide è una persona in gamba, molto preparata, con una bella esperienza alle spalle, quindi sicuramente l'intervista non ho dubbi che vi piacerà se vi interessano gli animali. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, lasciate un mi piace, condividetelo e seguitemi anche sulla mia pagina Facebook, trovate anche quella il link in descrizione. Se poi volete sostenere la mia attività di divulgazione su YouTube e su Facebook, allora trovate in descrizione un link di Paypal a cui fare una donazione libera, qualora lo vogliate. Per il resto vi ringrazio nuovamente e vi lascio all'intervista. Ciao a tutti, siamo in compagnia di Davide Palumbo, biologo specializzato in fauna vertebrata. Grazie per aver accettato l'intervista. Grazie a voi. Ci siamo trovati questa sera in occasione di una proiezione di foto su un viaggio fatto in Artico, quindi sugli animali che popolano questa zona, qui al Fotoclub San Martino di Prato. e però appunto prima di parlare di questo direi appunto di chiederti per curiosità qual è stata la tua formazione, insomma, siccome molti sono curiosi al riguardo, come si fa ad arrivare a studiare gli animali e in particolare appunto tu che percorso hai seguito? Io ho seguito un percorso binario, quello classico, accademico, legato alla formazione universitaria, quindi ho fatto scienze biologiche, a vecchia facoltà di 5 anni, oggi sarebbe un 3 più 2, e poi mi sono impegnato personalmente a frequentare ambienti naturali, a studiare animali, diciamo così, nel mio cosiddetto tempo libero, attraverso viaggi, esperienze personali, ogni volta che avevo l'occasione. E cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere un percorso di studio volto appunto all'approfondimento degli animali e dei loro comportamenti, eccetera? A livello di facoltà, scienze biologiche e scienze naturali sicuramente. Se uno intende farne un mestiere, occorrono tre elementi, perseveranza, saper cogliere l'occasione, quando ci sono, quando si presentano, e la voglia di non mollare. Sicuramente non sono mestieri a giorno d'oggi in cui si cerca la remunerazione massima, ma sicuramente si possono monetizzare altri aspetti, qualità della vita e soddisfazione personale. Sicuramente la perseveranza. Lasciare perdere il primo ostacolo sicuramente non favorisce una carriera in termini di indagini faunistiche o scienze biologiche in generale. E quindi in particolare tu sei un esperto di fauna vertebrata, con diverse pubblicazioni alle spalle, quindi di cosa ti occupi principalmente, di cosa ti sei occupato in questi anni? Essenzialmente due rami. Mi sono occupato di grandi carnivori, in particolare il lupo, nel nostro appennino. Adesso in particolare stiamo seguendo un progetto interessante sull'origine del lupo italiano attraverso lo studio del DNA antico da reperti del Pleistocene recente. E l'altro aspetto è il rapporto tra ecoturismo e conservazione, che è più la parte importante del mio lavoro, che lega proprio la lettura dell'ecoturismo come strumento fondamentale per la conservazione della fauna vertebrata nel mondo, in generale, della biodiversità. E appunto infatti la prossima domanda è che tu sei uno dei principali responsabili di Biosfera Itineraria, hai fondato appunto questo tour operator con i tuoi collaboratori, che organizza viaggi naturalistici improntati sull'osservazione della fauna e dell'ambiente in posti appunto nei quali spesso non è facile neanche andare per conto proprio, insomma, senza contatti e senza esperienza alle spalle. Quello infatti che caratterizza viaggi organizzati da Biosfera è proprio l'accompagnamento di un biologo o di un naturalista sul posto proprio, con te mentre fai il viaggio. Quindi perché questo è un valore aggiunto e come funzionano i vostri viaggi? Dunque, noi siamo un team di biologi naturalisti che facciamo effettivamente questo mestiere. Abbiamo una serie di esperienze e di contatti personali in diverse aree protette del mondo, vari parchi nazionali, poi in tutti i continenti, e questo ci mette un po' in una posizione facilitata, insomma abbiamo delle intrature importanti per poter avvicinare gli animali, conoscere le studiose che ci lavorano, avere un rapporto privilegiato con i ranger e soprattutto una conoscenza dettagliata del territorio, del comportamento delle specie. Questo permette a noi di favorire incontri in tutta sicurezza e di qualità con la fauna selvatica anche in ambienti difficili e al fruitore di avere un'informazione naturalistica di qualità è un buon risultato anche in termini di osservazione e di fotografia, sia per il semplice curioso, possiamo dire così turista, sia per lo specialista che vuole effettivamente osservare soggetti normalmente difficili da avvicinare. E quindi perché in definitiva è importante l'ecoturismo? Al giorno d'oggi si parla tanto di conservazione, ci sono diversi modi di fare conservazione, alcuni che affrontano istanze di carattere etico, che però al nostro avviso in certe situazioni o arrivano tardi o sono deboli. L'ecoturismo porta un'economia reale in territori spesso poveri, dove ancora la biodiversità si esprime al massimo ed è effettivamente uno strumento molto forte per convincere le persone che vivono in quei territori lì a utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali invece che distruggerle o depredarle. Per cui l'ecoturismo sicuramente si traduce in un'arma assolutamente vincente nella conservazione della biodiversità nel medio termine. L'ecoturismo però comunque deve essere un ecoturismo anche consapevole perché altrimenti rischia di essere una fonte di stress per le culture locali ma anche per gli animali che si vanno ad osservare. Assolutamente. Sotto il nome di turismo della fauna, turismo della biodiversità o wildlife tourism, ci sono sicuramente molte cose che non definirei ecoturismo. Al giorno d'oggi si vede sempre di più un mercato di esperienze che puntano sul sfruttamento dell'animale, sul rapporto ravvicinato, sul contatto fisico. Animali trutti in cattività o in condizioni miserevoli o sfruttati proprio per la fotografia o per il turismo dei cinque minuti, insomma dell'impatto veloce. Noi facciamo un altro mestiere. Se si chiama ecoturismo deve avere un impatto minimo e deve comunque portare un qualche tipo di beneficio. Come si ottiene questo incrocio? Si ottiene misurando gli effetti del medio termine. Dove vediamo che nei parchi nazionali che hanno affrontato la sfida dell'ecoturismo i numeri aumentano, la situazione migliora, l'economia della gente locale tra un beneficio, vediamo che stiamo facendo bene, si sta lavorando nel modo giusto. La situazione dei gorilla di montagna è emblematica, ma anche le tigre in certi parchi dell'India. Si vedono numeri che dopo 30 anni di turismo fatto bene aumentano e questo è sicuramente il primo indice di un buon lavoro. In altre situazioni il turismo è un bieco sfruttamento di animali tenuti in cattività e in condizioni miserevoli e questa cosa qua noi la scoraggiamo pesantemente perché effettivamente è il lato scuro della medaglia del turismo legato alla fauna selvatica. Quindi tu in definitiva, a chi vuole intraprendere un viaggio di questo tipo, cosa consiglieresti per evitare non solo situazioni potenzialmente pericolose per chi viaggia. Ma anche consigli per riconoscere queste ipotetiche trappole per turisti mascherate dal turismo naturalistico ma appunto in realtà nascondono magari in realtà di sfruttamento. Contattarci prima di tutto, a parte gli scherzi, sicuramente bisogna precisare che l'intenzione è andare a osservare animali nel loro contesto naturale. Importantissimo questo. Situazioni facilitate, animali nutriti, attirati con attrattivi chimici o alimentari tenuti in recinti o elefanti cavalcati o tigri da toccare qualsiasi approccio che preveda il contatto fisico con un animale selvatico è sicuramente una violazione dell'integrità della situazione e non ha nulla a che vedere con l'ecoturismo. Bisogna pretendere che l'animale sia osservato nel suo ambiente naturale e nello svolgimento delle sue attività vitali in libertà e senza condizionamento. Se l'animale continua a fare quello che avrebbe fatto senza di noi abbiamo fatto un buon lavoro. Se l'animale è condizionato dalla nostra presenza spesso in modo negativo abbiamo sbagliato qualcosa nell'approccio e ci sono vari gradi di danno che possiamo fare anche con le migliori intenzioni. Quindi l'ultimo viaggio poi perché è un bel discorso fatto dal team di Biosfera è stato il viaggio in Artico. Tu in particolare invece che viaggi quali sono stati gli ultimi suoi viaggi in Biosfera? Abbiamo avuto un'estate molto intensa dagli Stati Uniti alla Tanzania appunto all'Artico Estremo delle Svalbard io personalmente ho fatto due itinerari quest'estate nel Borneo Malese alla ricerca di fauna delle floreste pluviali un itinerario che ci ha regalato emozioni incredibili tra cui incontri che abbiamo cercato ma che non garantivo con il leopardo nebuloso della sonda che è un animale sicuramente estremamente raro estremamente elusivo e poi abbiamo fatto un itinerario sperimentale in Africa Centrale in Repubblica Centrafricana e in uno degli angoli più paradisiaci del pianeta delle foreste congolesi dove siamo andati a cercare i gorilla di pianura e un'altra serie di specie che vivono nelle foreste congolesi in compagnia di guide eccezionali che sono i pigmei e i bayaka che sono le persone che vivono lì da millenni hanno una cultura materiale e trasmissione orale delle loro conoscenze della foresta che è assolutamente ineguagliabile come guide sono assolutamente i migliori in assoluto che potessimo aspettarci e prossimo viaggio invece Tanzania del nord la zona del Serengeti di Ngorongoro in stagione verde proprio al cumile della migrazione e poi torneremo in Borneo a febbraio nel frattempo avremo un'esperienza di nuovo nell'Artico norvegese in un momento in cui Orche e Megattere seguono i banchi di Aringhe in uno spettacolo condito dall'aurora boreale che sicuramente è una delle situazioni più spettacolari del pianeta bene per seguire appunto l'operato di Biosfera per trovarvi per contattarvi per avere informazioni su questi viaggi come si fa? c'è il nostro sito internet www.biosferaitinerari.it li trovate tutti i nostri contatti potete anche seguirci sulla pagina facebook siamo a disposizione per qualsiasi curiosità sì comunque vi lascio in descrizione ovviamente tutti i riferimenti per poter seguire l'operato di questo team che io insomma mi complimento e ringrazio quindi alla prossima alla prossima grazie a tutti grazie a tutti